Musica Fatture false per creditiva in danno all'erario e proventi riciclati all'estero maxi operazione di polizia giudiziaria che ha coinvolto più di 100 persone e 120 società tra gli indagati, anche un commercialista di Fano Confesercenti torna a chiedere l'apertura di bar e ristoranti fino alle ore 18 No alle azioni fuori legge, intanto il ristoratore ribello Umberto Carriera è invitato in Senato a rappresentare la categoria Prima poi il blocco dei licenziamenti terminerà, prima poi la cassa integrazione terminerà e sarà una vera e propria catastrofe Alle poste solo un giorno su sette con lunghe file e al freddo la protesta degli anziani a barchi di terre roveresche per chiedere più aperture settimanali il sindaco assicura ci siamo attivati, attendiamo una risposta Al via i saldi invernali nelle Marche, ancora scarsa l'affluenza penalizzare i commercianti in divieto di spostamento tra i vari comuni Perché i saldi iniziati sabato sono partiti bene solo sabato Da domenica già, essendo arancioni, i saldi come se non ci fossero Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con l'operazione che ha permesso di smantellare un sodalizio criminale che organizzava frodi in danno all'erario per centinaia di milioni di euro A finire nei guai è anche un commercialista fanese In servizio di Filippo Pucci C'è anche un commercialista di Fano tra gli indagati per i reati di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale, al riciclaggio e autoriciclaggio Durante un'operazione di polizia giudiziaria è stato scoperto uno studio contabile di Sirmione considerato il centro di un articolato sistema volto alla creazione di falsi crediti tributari per diversi milioni di euro che venivano ceduti ai clienti dietro il pagamento di un corrispettivo al fine di compensare i debiti da loro maturati verso l'erario L'attività investigativa che ha visto il coinvolgimento di 104 persone e 126 società con sede in diverse province italiane ha consentito di ricostruire il meccanismo ideato da professionisti bresciani Tutto si incentrava sull'emissione di fatture false ricorrendo alle società cartiere anche straniere che ha permesso di creare crediti IVA poi utilizzati da clienti consapevoli per compensare i propri debiti tributari L'indagine ha permesso di ricostruire tutte le fasi di trasferimento e di passaggio del denaro nonché i ruoli dei vari indagati così da consentire di smantellare il sistema criminale Oltre ai servizi fiscali il sodalizio si occupava anche di ripulire i proventi illeciti grazie al trasferimento di somme di denaro su conti correnti aperti negli istituti di credito maltesi, slovacchi, ungheresi e croati a loro riconducibili Inoltre è emerso che sono state emesse fatture per operazioni inesistenti per circa 270 milioni di euro che hanno consentito di abbattere complessivamente un debito IVA per 47 milioni ed evadere l'IRES per più di 58 milioni di euro oltre che di cedere crediti fittizi per 21 milioni Al momento 350 unità operative delle Fiamme Gialle stanno procedendo in ambito nazionale a dare esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia nei confronti di 26 persone tra cui il commercialista fanese Le Fiamme Gialle hanno perquisito l'abitazione e lo studio dell'uomo colpito da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari Inoltre è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo che ha colpito fra l'altro un appartamento e la pertinenza di proprietà dello stesso professionista E fra qualche settimana parte la seconda fase della vaccinazione e la Regione Marche è pronta per l'esecuzione dei vaccini anche al personale della scuola Lo dichiara l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini che aggiunge Nell'attesa è stata attivata la corsia preferenziale per docenti, personale della scuola e alunni nei punti di screening sul territorio per sottoporsi al test rapido potranno recarsi in uno dei tanti centri già attivi senza bisogno di prenotazione L'iniziativa in vista della riapertura delle scuole superiori del sindaco Ricci appare come una fuga in avanti hanno dichiarato i consiglieri pesaresi di maggioranza poiché sa perfettamente che il servizio sanitario è già impegnato sul doppio fronte della vaccinazione e dello screening e non ha le risorse per altri percorsi Da amministratori concludono siamo chiamati a rappresentare le esigenze dei marchigiani non è ammissibile concepire dei piani che prevedano studenti di serie A e di serie B e si aggrava di 15 decessi il bilancio marchigiano dei deceduti con Covid-19 hanno perso la vita anche 7 persone residenti nella provincia di Pesero Urbino tra cui 4 fanesi i nuovi positivi al Covid sono 359 di cui 107 nella nostra provincia negli ospedali della regione ci sono 4 ricoveri in meno rispetto a ieri rimane invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre è in leggero calo quello dei degenti in semi-intensiva Invece sulle risorse per i servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico locale c'è una buona notizia il governo si sta svegliando e durante la conferenza Stato-Regioni sembra abbia decretato anche per le marche 3 milioni di euro lo riferisce l'assessore regionale Trasporti Guido Castelli a margine della seduta di oggi del Consiglio regionale a proposito della volontà della regione di riprendere le elezioni in presenza il 25 gennaio Cambiamo argomento oggi il ristoratore ribello Umberto Carriere è stato invitato al Senato come rappresentante della categoria vediamo la parola fine molto vicina ha dichiarato Carriera dobbiamo ripartire allora sentiamo un estratto del suo discorso Sembra un paese sull'oro del fallimento questo per colpa insomma delle scelte fatte dal governo attuale io sono un uomo del popolo non rappresento alcuna categoria alcuna associazione io credo che l'attuale governo sia incivile lo reputo incivile perché secondo me non rispetta gli imprenditori non rispetta le persone non rispetta i cittadini la mia categoria quella dei bar e dei ristoranti è di fronte ad una morte assistita insomma facciamo fatica a guardarci indietro sembra impossibile guardare al futuro ma soprattutto ci fa molta paura ma davvero molta paura il presente non riusciamo ad avere nessuna programmazione e vediamo la parola fine molto 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 vicina prima o poi il blocco dei licenziamenti terminerà prima o poi la cassa integrazione terminerà e sarà una vera e propria una vera e propria catastrofe c'è bisogno del famoso anno bianco è una necessità ma più di questo c'è bisogno di riaprire di far ripartire assolutamente il nostro paese io apro ho iniziato venerdì quindi cinque giorni fa sta andando avanti e si sta organizzando anche con altre categorie da molti mesi non si fa altro che contare i tamponi i tamponi i tamponi il mio timore il nostro timore è quello che da qualche mese bisognerà contare i cappi al collo e questa è una cosa che secondo me non ci possiamo assolutamente permettere quindi riapri Italia Italia riapri è assolutamente una necessità in questo momento e Confesercenti torna sulla questione degli esercizi pubblici per ribadire la necessità sia di evitare azioni di protesta fuori legge che mettano a rischio operatori e clienti sia di spingere sulla strada della dialogo la nostra richiesta spiega Giorgio Bartolini direttore provinciale che i locali situati in zona arancione possano restare aperti lavorando in presenza e non soltanto con l'asporto almeno fino alle 18 e di riprendere l'attività serale nella fascia gialla questo prosegue il direttore per restituire dignità al settore con un piano di riaperture che sia graduale in sicurezza ma che non può più essere rimandato negli ultimi 12 mesi infatti le 300.000 imprese che lavorano nel nostro paese hanno registrato circa 38 miliardi di euro di perdita di fatturato un terremoto economico ha concluso per tutto il sistema ci spostiamo a Barchi nel comune di Terre Roveresche dove alcuni residenti chiedono da mesi di riaprire l'ufficio delle poste per più giorni a settimana ad oggi ci hanno detto solo file e disagi una persona anziana che non c'è nessuno non sa come fare quindi è un problema grosso noi ci accontenteremo magari anche di due giorni però i tre giorni sarebbero indispensabili Remo De Santi non si arrende torna a chiedere la riapertura per più giorni dell'ufficio postale di Barchi che ad oggi è fruibile soltanto un giorno a settimana una situazione legata alla pandemia ma che continua a provocare notevoli disagi l'ufficio postale era aperto tre giorni con il lockdown è stata chiusa poi a luglio è stata riaperta l'ufficio è stato riaperto per un giorno come d'altronde anche nei municipi di Piaggia e San Giorgio a novembre Piaggia e San Giorgio hanno ripristinato i tre giorni da noi un giorno solo purtroppo siamo parecchi anziani e si fa la fila lì davanti è freddo è pericoloso e in più parecchi quelli che hanno la macchina prendono la macchina vanno in Occiano che sono 4 km e se la cavano ci hanno portato via all'ufficio tecnico ci metteranno qualcos'altro insomma Barchi ci sentiamo un po' noi quando scriviamo una lettera mettiamo Barchi Balcone di terre roveresche quindi non ci possono portare via il panorama che abbiamo e l'aria buona però se no anche l'amministrazione non è che ci sta molto vicino insomma gli altri municipi prosegue De Santi hanno anche una banca mentre qui non c'è neanche quel servizio d'accordo con lui tanti residenti che sono disposti se ce ne fosse bisogno ad intraprendere ulteriori azioni come ad esempio una petizione popolare con lei che è stato anche il sindaco fino al 2001 di questo bel paese come era prima la situazione la situazione era ottima fino al 2001 non c'era nessun problema anzi anche più avanti del 2001 non hanno creato mai problemi l'ufficio postale era tutti i giorni non era tre giorni non era tutti i giorni e quindi ci trovavamo bene senza purtroppo per noi il problema è venuto fuori con la fusione perché pensavamo che le cose miglioravano invece hanno peggiorato perché hanno scolto tutti i servizi e quindi ci troviamo ecco così come diceva prima De Santi con l'aria buona di sicuro per il resto siamo così e poco dopo ci ha raggiunti l'attuale sindaco Antonio Sebastianelli il primo cittadino assicura ci siamo attivati ma attendiamo una risposta Sindaco abbiamo raccolto questa mattina il disagio dei suoi concittadini si può fare qualcosa? Sì è un disagio diffuso non solo da noi anche in altri centri specialmente più piccoli noi ci stiamo attivando abbiamo scritto più volte in prefettura abbiamo scritto a poste italiane per cercare di ripristinare almeno l'orario che c'era prima del Covid perché come ho avuto modo di dire spero che il Covid non sia la scusa per poi chiudere sempre di più questi piccoli piccoli centri queste piccole realtà e quindi almeno tre giorni per settimana per dare un servizio decente è in attesa di una risposta ancora? Noi siamo in attesa ci siamo anche adoperando con un consigliere regionale con Giacomo Rossi per cercare di appunto di ripristinare la situazione precedente e ancora stiamo aspettando sono un po' lunghi nel rispondere non è che sono così così rapidi speriamo l'augurio di arrivare a ripristinare come era prima e quindi ci sia almeno questa attenzione specialmente nelle comunità più piccole e nelle Marche sono partiti sabato scorso i saldi invernali ma la pandemia e i divieti di spostamento non aiutano queste vendite promozionali Angelica Panzieri al via agli sconti dal 20 al 50% sulle collezioni invernali i saldi del 2021 nelle Marche sono ufficialmente partiti anche se gli acquirenti ancora mancano qualcuno si è dato da fare nel primo giorno disponibile il 16 gennaio poi l'affluenza nei negozi del centro storico di Pesaro è subito calata a penalizzare fortemente i commercianti il divieto di spostamento tra i comuni tipico della zona arancione i saldi iniziati sabato sono partiti bene solo sabato da domenica già essendo arancioni i saldi come se non ci fossero la gente gira pochissimo quella che c'è è quella del comune di Pesaro che gira solo per fare un po' di passi noi lavoriamo non solo col comune più col fuori comune speriamo di recuperare ma quello che è perso purtroppo come abbiamo già visto non si recupera noi speravamo nella zona gialla perché l'arancione ci penalizza molto qui in centro non c'è stata una grossa affluenza adesso speriamo nei prossimi giorni però sabato visto che sono partiti sabato sono partiti bene dai diciamo dal 20 al 50% il 50% le vecchie collezioni dei vecchi anni e il 20 e 30% quella di quest'inverno abbiamo messo le promozioni prima per vedere se la gente si comprava un po' anche con i saldi la gente non compra le vendite promozionali erano già partite dal primo dicembre anche se ufficialmente i saldi hanno preso il via sabato 16 gennaio e proseguiranno fino a metà marzo e tra i commercianti storici del centro di Pesero c'è anche chi ha applicato solo piccole promozioni quelli che invece come noi che hanno un articolo giusto tutto l'anno automaticamente il saldo è più piccolo perché non abbiamo la possibilità di fare sconti su cose vecchie sono nuove di quest'anno abbiamo fatto un 20% su articoli però selezionati di quest'anno tanto per recuperare un po' di soldi dato che abbiamo avuto Natale un po' floscio intanto ringraziamo la regione che ha spostato i saldi al 16 se no avrebbero dovuto essere il primo sabato del mese di gennaio del nuovo anno il problema è che se tu mi fai la vendita promozionale per un mese un mese e mezzo prima il saldo due giorni dopo non ha motivo di esistere perché tra vendita promozionale e il saldo ormai non c'è tanta differenza e tecnicamente poi va a incidere anche il fatto stesso che c'è la difficoltà di movimentazione tra i comuni che molti negozi hanno la clientela romagnola come molti pesaresi vanno in Romagna a fare degli acquisti questo va a incidere sicuramente dal punto di vista dell'incasso io speravo e mi auguro che ci sia un miglioramento perché questo è un momento migliore per l'operatore per incamerare l'ossigeno necessario per andare avanti molti commercianti dicevano di aver bisogno dei ristori l'Italia ha bisogno dei ristori cioè il commerciante il ristoratore la palestra il cinema il teatro ormai il problema è che il ristoro lo stato i soldi non li ha abbiamo capito e quei ristori che sono arrivati a parte piccolissime eccezioni sono delle questo e delle lemosina sicuramente ci danno quella pseudo tranquillità per pagare le bollette che sono comunque arrivate perché quelle non sono mai venute a mancare anche nel momento in cui il ristorante è chiuso Enel quindi energia elettrica gas luce acqua taria quelle sono sempre arrivate il punto è che i negozi restano aperti perché le marche sono in zona arancione ma la gente arancione ma la gente non entra quanto ha inciso il covid? a livello mentale tantissimo il problema non è oggi come oggi con la gente violentata a livello del battagio del terrorismo psicologico che abbiamo subito e sarà il successivo cioè la rinascita nel momento in cui noi sicuramente non avremo quella forza necessaria per ritornare alla nostra pseudonormalità e manca la serenità di base e speriamo di rivederla negli occhi delle persone il più presto e adesso torniamo a Fano per vedere come stanno andando le vendite nel centro storico il servizio è a cura di Letizia Marchionni sono partiti anche a Fano dal 16 gennaio gli sconti sulle collezioni invernali anche nella città della Fortuna come a Pesaro dopo il primo giorno di saldi in zona gialla l'affluenza nei negozi del centro storico fanese è nuovamente diminuita con le restrizioni apportate dalla zona arancione il percentuale che abbiamo applicato è del 30% quasi su tutto il prodotto in questo momento sabato sono partiti sono andati bene adesso dalla zona arancione c'è un pochino un pochino più di calo vediamo poi il fine settimana perché comunque sia ce l'auguriamo che sia positivo avete applicato le promozioni a partire dal primo dicembre? io non l'ho nemmeno applicata la promozione sinceramente anche perché mi creava confusione mi creava confusione e lo creava anche al pubblico finale ho visto che c'è stata differenza tra l'ufficialità dei saldi e le promozioni prima siamo partiti applicando un 20% di sconto questo all'inizio ovviamente della collezione invernale e ad oggi con l'inizio dei saldi abbiamo applicato una scontistica che va dal 30% fino al 50% di sconto purtroppo ad oggi è difficile fare un bilancio di come stia andando il lavoro perché ci sono dei giorni in cui si lavora altri giorni meno e siccome stiamo vivendo in una condizione di caos totale tutti perché appunto un giorno sei arancio un giorno sei giallo poi ritorni rosso questa cosa è stata sentita tantissimo ovviamente anche dai clienti finali capita a volte che ci chiamano per dire ma siete aperti ma mi posso muovere ma cosa devo fare e purtroppo anche con la chiusura dei ristoranti che sono un pochino il legame di tutti i settori dall'agroalimentare al nostro mondo che è quello dell'abbigliamento della moda purtroppo stiamo soffrendo perché se pensi che comunque tutti dai ragazzi più giovani ma anche alle persone più grandi giustamente magari dicono ma io perché devo andare ad acquistare un capo se non posso andare a fare un pranzo fare una cena quindi la situazione purtroppo è questa e la stiamo pagando tutti nonostante la zona arancione però molti fanesi seppur all'interno del proprio comune non sembrano intenzionati a rinunciare allo shopping ha già approfittato dei saldi la vedo con una busta è certo che ho approfittato sì 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 per i bambini si fa questo ed altro visto i momenti mi fa anche piacere perché poi sono cose carine quindi il momento quello che però aiutiamoci aiutiamo anche i negozianti a far sì che tutto questo vada avanti per il bene di tutti ancora no non lo sapevate io no non lo sapevo invogliano le persone a riempire i negozi e secondo me non lo so io personalmente compro online perché preferisco molto di più cosa avete comprato? ho comprato per la mia nipotina e una maglia per me la gente approfitta per comprare anche per uscire un po' perché se no non se ne può più sempre in casa visto che è una bella giornata e quindi si fa shopping si avete già approfittato dei saldi? non ancora non ancora ma siamo in procinto di avete intenzione quindi di acquistare qualcosa? ma perché no se c'è qualcosa di interessante senz'altro certo sì adesso questo poco fa abbiamo approfittato posso chiedere che cosa avete comprato vestiti? non possiamo uscire per cui se lo facciamo lo facciamo anche per così per un po' di felicità anche per noi e poi anche per il commercio e tra poco andrà in onda una nuova puntata di Guarda chi c'è dedicata alla storia di una nota sartoria di Filo Trano a seguire trasmetteremo un video sul Don Orione di Fano e poi l'epilogo di Luigi Pirandello con la regia di Pietro Conversano e il ricordo di Carla Fucci mamma della presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli allora buona serata a tutti voi arrivederci a tutti